Domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, a Torino si torna a votare per l'elezione del sindaco. Al ballottaggio i due candidati, Stefano Lorusso per il centro-sinistra e Paolo Damilano per il centro-destra. Oltre a Torino, altri tre comuni sono al ballottaggio in provincia, Beinasco, Pinerolo e San Mauro, tutti con più di 15.000 abitanti appartenenti alla città metropolitana torinese. Per il voto occorrerà un documento di riconoscimento personale, qualsiasi documento di identificazione munito di fotografia rilasciato dalla pubblica amministrazione, patente di guida o carta identità elettronica e la tessera elettorale personale a carattere permanente. Per l'identificazione degli elettori sono validi anche le carte di identità e gli altri documenti di identificazione rilasciati dalla pubblica amministrazione, anche se scaduti, purché da non oltre tre anni. In mancanza di un idoneo documento di identificazione può avvenire per attestazione di uno dei componenti del seggio che conosca personalmente l'elettore. La città di Torino invita quindi gli elettori a controllare la propria tessera elettorale e ricorda che in caso di tessera smarrita e con gli spazi tutti timbrati, occorre richiedere un duplicato o una nuova tessera. Per questo l'ufficio elettorale di Corso Valdoccoventi resterà aperto fino al 18 ottobre con il seguente orario. Oggi e domani dalle 8 e un quarto alle 18, domenica 17 dalle 7 alle 23 e lunedì 18 dalle 7 alle 15. Mentre gli uffici anagrafi di circoscrizione dalle 8 e 30 alle 14 e dalle 14 e 30 alle 18 di oggi e domani e domenica dalle 7 alle 23. Come per il primo turno per prevenire il contagio durante le operazioni di voto, i Ministeri dell'Interno e della Salute hanno seglato un protocollo con le misure anti-Covid da rispettare durante le elezioni. Non è richiesto il Green Pass per recarsi al seggio e non è prevista la misurazione della temperatura, mentre è obbligatorio indossare la mascherina sia per gli elettori sia per i componenti del seggio. All'interno degli edifici verrà garantita la pulizia degli spazi, il ricambio dell'aria e saranno allestiti percorsi differenziati di entrata e uscita per evitare assembramenti. Inoltre, all'interno del seggio elettorale dovrà essere garantita la distanza minima di un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi e gli elettori.